Viene preferita Nicla 5,56 al di poco però a Omso R numero 5,8 e 27 a Mistral Dei Fiori numero 11,8 e 83. Quarta corsa di Palermo, categoria F, doppio chilometro, corsa valida come seconda trisse nazionale, in 14 al via favorito al gioco il numero 8, l'anario jet, quota di 2,81. L'allineamento piuttosto riuscito è il momento dello stacco, stacco che vede emergere in maniera molto netta Omso R che va a assumere il comando nei confronti di Pontidast, per linee esterne anche Nicla che proverà probabilmente a puntare in avanti mentre il gruppo appare piuttosto compatto, punta in avanti Nicla come da Copione e dovrebbe avere via libera come ha infatti da Omso R quindi Nicla affronta in vantaggio la retta di fronte, andiamo un po' a vedere questo primo parziale cosa ci indica, primi 400 metri discretamente veloci, 39 sul mio cronometro con Nicla Battistrada nei confronti di Omso R e di Pontidast in quarta posizione ha steccato Oceania, mentre per linee esterne è scoperta Mercurideni prova in terza ruota una avanzata piuttosto ovviamente Poldo di Drago numero 6 che adesso si trova in seconda corsia ha appunto affare da tre in questa seconda corsia, si va abbastanza tranquillamente adesso con Nicla Battistrada nei confronti di Omso R Poldo di Drago per linee esterne seguito da Mercuridani, il primo chilometro viene completato in questo momento attorno all'1.17 e qualcosina quindi andatura piuttosto tranquilla, allora Giuseppe Porcio Junior con la Nariojet rompe gli indugi e viene avanti con grande decisione scavalca Poldo di Drago e va ad affiancare Nicla che continua a guidare un po' indietro invece è Omso R che sul parziale ha perso qualcosa, adesso prova a ritornare nel frattempo un po' di maretta dietro e si crea un certo gap fra i cinque davanti e gli altri ad inseguire con Nicla che tiene ancora botta all'Nariogetti, due seguiti sempre da Omso R e da Poldo di Drago più indietro Pontidas e gli altri ancora più lontani, il miglio viene percorso attorno al 2.2 e qualcosina quindi l'andatura si è notevolmente svertita ed infatti la Nariogetti comincia ad accusare la pesantezza del percorso esterno mentre è ancora vitale Omso R che lo rimonta lungo la corda, Nicla nel frattempo continua a guidare con una certa disinvoltura ci prova di spunta Omso R e dà l'impressione di essere molto pericolosa, guadagna Omso R sul Nicla che però reagisce reagisce molto molto bene, Nicla è la porta a casa nei confronti di Omso R al terzo posto ancora la Nariogetti sul mio cronometro un tempo notevole per Nicla attorno addirittura all'1.15.5, verificheremo se la misura è corretta dunque vittoria di Nicla al doppio per Giuseppe Vitale, quota di 5.36 per l'allieva di Francesca Croce con i colori del signor Antonio Giannola, terzo posto per la Nariogetti e dunque 4.5.8 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quarta corsa di Palermo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!